Una donna dominicana di 36 anni è stata trovata morta intorno alle 8 di ieri mattina nel piazzale del Parco Iuliano a Scalea dove si era trasferita da tempo. Medina Pena, questo il nome della vittima, sarebbe precipitata dal quarto piano del condominio in corrispondenza del suo appartamento di 30 metri quadri schiantandosi al suolo dopo un volo di quasi 20 metri. In un primo momento si era pensato a un gesto volontario ma una volta giunti sul posto gli inquirenti hanno raccolto elementi a sufficienza per seguire la pista dell'omicidio. Questa mattina la svolta. A causa dei gravi indizi il PM di turno alla procura di Paola, Maurizio De Franchis, ha disposto il fermo di un uomo, l'indiziato e il compagno della vittima. Secondo quanto riferisce un vicino di casa, la donna già in passato avrebbe subito violenze e aggressioni. penso, poi lei non apre casa, ha buttato casa, rompe casa, poi ho massato tutto, un vero, un sangue pieno, è arrivato quel palazzo che si non era chiamato, quel palazzo che ha chiamato, forse si è chiamato. La signora aveva già avuto problemi? Francesca Lagatta per la Cines24